Come scontro Tarceschi, palleggio, arresto, bomba di Baby Simba, Biliga, Moretti. Vado a battere Poeta, cade, i garbitri dicono di lasciar correre, alla fine Glasses di Moretti porta la schiacciata di Biliga. Poeta vede di nuovo il taglio di Williams, che questa volta è più preciso rispetto a prima. Primo assist della partita per il quinquadrato Peppe Poeta. Deve tre secondi nell'azione, Rolle in angolo per l'Idei che prova a battere la sirena e ci riesce con la tripla del paneggio. 10 di media quest'anno in Serie A, ma è stato molto prezioso, mentre Poeta alza per Jarvis Williams. Williams si getta su quella linea di passaggio, intercetta il pallone, Shields si alza dall'arco. La tripla del Danese di Kansas City per poter sperare di mantenere viva la partita nel secondo tempo. TJ Williams per Jarvis Williams che riesce a interrompere quel parzialone di Milano. Il blocco di Jarvis Williams, ancora Poeta contro Rolle, la sua classica tripla da lontanissimo. Torna a segnare da tre Cremona. Tra l'altra parte Panther buttandosi indietro. Vedete come Cremona sta continuando a tirare molto dal perimetro, così come Milano invece prova a avvicinarsi al ferro. Mentre qua Milano batte la pressione di Cremona. Perché se chiaramente Cremona proverà fino alla fine, qua ad esempio con il taglio di Mian pescato da Cuono, di nuovo meno 9. Mastini va da Biligac, si prende il long tour, lo segna a tiro da quella posizione l'ex veneziano. Dare al forum contro Milano sarà qualcosa che si ricorderà per sempre. Qua arriva un altro tiro e arriva anche il primo canestro in carriera in Serie A per Gallo. E quindi chiude così la propria stagione la Manoli. Grazie a tutti.